Siamo giunti al termine di questa serata, c'è un ultimo brano che dedico a tutti voi. In modo particolare, dedicando questo brano, voglio ringraziare Dio per il don della vita, questa enorme galleria di incontri. E' un bagaglio di esperienze, tanti incontri positivi, straordinari, qualche piccolo incontro, che pure sempre, non sempre positivo, che ci aiutano a crescere. Ecco perché volevo, ecco, nello ringraziare tutti per l'affetto, per l'appoggio, per la collaborazione, volevo questa sera ringraziare chi in qualche modo diventa, non è una polemica, per amore di Dio, ma volevo ringraziare Dio anche per quelle persone che a volte ci creano delle difficoltà nella vita. Perché forse non si rendono conto che ci fanno scoprire voi, ecco, ci fanno apprezzare di più le cose belle. E anche il concerto di questa sera è stato un po', ecco, faticato per la realizzazione. Volevo ringraziare innanzitutto Lennio Cermino, Volevo ringraziare, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti